Buongiorno da Edo, questo è un episodio speciale. È speciale perché oggi non parlerò di tech news, non ci saranno tech news, sarà anche piuttosto lungo come episodio, quindi se non vi interessa l'argomento saltate pure, non vi servirò alcun rancore. Oggi invece volevo parlare di un evento, un evento al quale ho avuto il piacere, la fortuna di assistere, anche grazie a Spark Fabric che mi ci ha mandato, quindi ringrazio comunque sempre Spark che mi permette di assistere a queste cose e l'evento di cui sto parlando è il We Are Developers World Congress 2023 che si è tenuto a Berlino gli scorsi giovedì e venerdì, un evento maestoso, gigantesco, dedicato ai programmatori appunto in questa community gigantesca che è quella di We Are Developers che tra l'altro vi invito a seguire perché loro a parte questo enorme evento live di persona a Berlino, nella fiera di Berlino di cui poi parleremo, organizza anche degli eventi diciamo live, loro li chiamano live, We Are Developers live, su YouTube, gratuiti, trovate eventi verticali su varie tecnologie, front-end, back-end eccetera, insomma vale la pena di seguirli anche per trovare dei talk interessanti da seguire e proprio di talk vorrei parlare oggi, vorrei fare un po' un recap delle cose più interessanti che ho visto, che ho sentito nei talk di questa conferenza, di questo evento. Chiaramente essendo così grande c'erano varie tracce, tenete presente un evento da migliaia di attendis, di spettatori e un sacco di speaker, e c'erano quindi varie tracce e eventi e talk in contemporanea, quindi bisogna fare delle scelte e scegliere quali talk guardare, quindi non li posso aver visti tutti, ne ho visti alcuni, poi tra l'altro mi sono messo a fare anche altre cose che voi magari vedrete in giro, e quindi ne ho seguiti soltanto alcuni, e di questi vorrei fare un po' un riassunto. Potrebbe magari interessarvi capire che aria tira, che tipo di argomenti si sono trattati a questa conf, per magari ispirarvi nel partecipare alla prossima, dell'anno prossimo, oppure andare a ripescare questi talk che credo che poi comunque saranno disponibili su YouTube da qualche parte, sul canale di We Are Developers, non so quando, ma potreste anche ritrovare gli stessi talk dagli stessi speaker in altre forme o in altre conf, quindi se vi interessano gli argomenti magari vi cifiondate e li sentite, quindi spero di fare una cosa carina, mi sono scritto un po' di appunti, tra l'altro sono scritto gli appunti su questa agendina meravigliosa, agendina Docker, che ho preso appunto allo stand, al booth di Docker, che era tra gli sponsor, questa agendina meravigliosa, con la copertina credo in sughero, molto carina, professionale, e mi sono scritto un po' di cose, un po' di appunti, quindi partirei subito perché sennò diventa veramente un video impossibilmente lungo. Allora, intanto l'evento, l'evento l'abbiamo detto, è stato un evento enorme, si è tenuto alla Fiera di Berlino, quindi la fiera è un posto che si presta perfettamente a questo tipo di eventi, con grossi capannoni, con dentro pareti mobili che si potevano anche spostare per chiudere degli stage, e insomma c'erano migliaia di persone, migliaia di attendisti e sponsor giganti. Vi cito alcuni nomi di quelli più prominenti che ho visto, DeepL, Vodafone, MongoDB, New Relics, Stack Overflow, Tuilio, Mercedes-Benz, che aveva uno stand gigantesco con una Mercedes dentro, eccetera, Dynatrace, Red Hat, Docker, GitHub, CK Editor, insomma un sacco di sponsor e di stand a cui si poteva andare a pescare per prendere vari goodies, varie cosine carine. L'organizzazione è stata fantastica, We Are Developers è ormai un meccanismo rodato, c'erano un sacco di volontari che aiutavano tutti a spostarsi nella fiera, che era gigantesca veramente, e a raggiungere i vari bagni, il guardaroba, insomma, molto ben organizzato e molto ben tenuto, ecco. E ora passiamo al primo talk che state già vedendo in sfondo, ed è quello di Tim Berners-Lee, che è sempre un enorme piacere vedere, lui è una divinità azteca, praticamente per quanto è venerato e venerabile, e giustamente per quello che ci ha dato, per me è uno degli idoli totali, una persona che ha inventato una delle cose che ha cambiato di più il mondo negli ultimi anni e l'ha donata così all'umanità. Ma comunque, Tim Berners-Lee ultimamente gira spesso nelle conf per parlare dell'ultima sua creazione, ecco, che è Solid. In realtà lui presenta Solid come una terza evoluzione del web, dopo web 1.0, web 2.0 e web 3.0, che rappresenta un po' l'ideale completamento, anzi miglioramento, di quello a cui siamo abituati. Naturalmente, web 1.0, che Tim Berners-Lee ha contribuito a creare al CERN, e infatti ne racconta un po' in questo talk la storia, che è stato creato come un meccanismo per condividere documenti. Tra l'altro, documenti in formato HTML, che appunto lui ha inventato, che era molto simile a un formato di documenti che davvero si usava al CERN per stilare appunto questi documenti. Lui era partito da H1, che era uno dei tag che si usavano nei documenti del CERN, e poi ha creato tutti gli altri tag, e poi naturalmente il server, il web server, poi il protocollo HTTP. Ecco, quindi web 1.0 era questo stack che partiva dall'HTML e arrivava giù 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 fino ai protocolli TCP, IP e poi naturalmente a Ethernet, e questo era un po' creava un internet fatto di persone che condividevano documenti, quindi i blog, eccetera. La devoluzione di questo web fu chiamata web 2.0, ovviamente che sopra a questo stack, quindi sopra HTML, fondamentalmente ci mise due pezzettini, cioè le web APIs e JavaScript. E qui cosa successe quindi? Che arrivarono i web platforms, i social media, insomma, queste enormi social media, queste enorme compagnie che favorivano la condivisione, hanno favorito la condivisione di informazioni, di materiale, di media, di dati da parte degli utenti, ma hanno anche creato dei silos di dati, perché ognuna di queste compagnie possiede in camera una certa quantità di dati degli utenti e li rimangono, non sono interscambiabili con le altre compagnie, non sono neanche nostri in realtà, sono proprio loro, sono quelli che Timenezoli appunto chiama i silos. E allora propone una terza versione del web, web 3.0, mi raccomando, da non confondere con il web 3, che invece sta a significare altre brutte cose, e invece web 3.0, che vado a leggere, lui fondamentalmente è formato da tre grosse parti, cioè una global SSO, quindi una single sign-on globale, poi outz, outz, quindi una autenticazione, anche qui è autenticazione globale condivisa, e poi universal API, di nuovo, delle API non specifiche di un vendor, di un produttore, di una compagnia, ma universale, in un formato universale, che tutti possano consumare. E quindi, questo protocollo, chiamato SOLID, che in realtà non è solo un protocollo, è un insieme di tecnologie, che consentono a ognuno di questi, di queste web application appunto, di condividere dati, accedere e condividere dati, ma non solo, permettono agli utenti, di mantenere i propri dati al sicuro, all'interno di quelli che vengono chiamati SOLID pods, che sono in pratica dei database, che stanno sul browser, o sui device, dell'utente, e vengono condivisi con le web application, soltanto quando l'utente lo concede, e tra l'altro, concedendo soltanto parti, dei pezzi, dei singoli elementi, di questo pod, e soltanto quando appunto, vengono richiesti, vengono concessi i permessi, e poi possono essere revocati. Quindi questi sono i pod, idealmente incapsulando, web applications, ma anche come poi dice, nella seconda parte del talk, cose come gli LLM, quindi i chat GPT, e in generale le intelligenze artificiali, incapsulandoli in questi SOLID pods, ci permetterebbe in pratica, di non condividere i nostri dati, con un silos appunto, con una compagnia in remoto, e fornirgli i nostri dati, e non riaverli più, perché è quello che succede anche, quando interagiamo con un LLM, quando noi mandiamo degli input, a chat GPT, questi input finiscono, nel linguaggio, nel modello, e sono disponibili poi per tutti, rimangono nel modello, mentre incapsulando tutto questo, in un SOLID pod, ecco che quei dati rimarrebbero noi, naturalmente anche l'LLM dovrebbe girare, o quantomeno una sua versione, dovrebbe girare nel nostro SOLID pod, ma insomma in questo modo, non condivideremo, non manderemo tutti i nostri dati, a questi vendor, e questa è un po' la soluzione, poi dopo, se vi interessa, andate a vedervi sul sito di SOLID, appunto, che è solidproject.org, è molto ben specificato, che cos'è il SOLID protocol, come funziona, è una cosa che esiste, cioè non è soltanto un'idea, è un'esiste, è una specifica, ci sono anche già degli esempi, delle app che le implementano, e i pezzi principali, a parte il SOLID protocol, che è quella parte, che serve naturalmente, per comunicare, per far comunicare, la parte web, quindi l'applicazione, la business logic di un'applicazione, con la parte database, che in questo caso, non sarebbe, o non dovrebbe essere, anche se può esserlo, ma non dovrebbe essere, un database tradizionale, con una struttura dati, legata verticalmente, a un'applicazione, ma un, praticamente un grafo, un grafo che permetta, di immagazzinare, qualunque tipo di struttura dati, immaginate un po' come un file system, in modo che, se c'è un cambiamento, se c'è un nuovo dato, se c'è un dato diverso, dai precedenti, ecco che questo database, riuscirebbe comunque, a immagazzinarlo, senza doverlo andare a modificare, no? Quindi, ecco, lui chiama appunto, un hybrid graph store, non sono sufficientemente ferrato, sugli store, sui database, ma posso immaginare, posso capire, che un hybrid graph store, sia appunto, uno store, che non ha, delle strutture dati specifici, come un database relazionale, ma appunto, un grafo, come un file system, e quindi, ecco che questi pod, avrebbero dati degli utenti, e per gli utenti sarebbero sicuri, sarebbero trusted, quello che invece è il contrario, di quello che avvenne, quando noi accediamo con un browser, o con un'app, a un social media, o un'app, noi non ci fidiamo, dobbiamo, non possiamo fidarci, di quello che fa l'app, invece possiamo fidarci, di un solid pod, e questo in pratica, è il succo, no? di solid, e di questo talk, che sicuramente, troverete in giro, anche su youtube, ma in varie conf, che lui, che lui lo porta, tra l'altro declinato, magari in modo diverso, a seconda del pubblico, a cui si rivolge, qui era piuttosto tecnico, perché appunto, era un pubblico, di tecnici, e io lo trovo, lo trovo interessante, solid pod, e solid protocol, lo trovo una tecnologia, veramente interessante, purtroppo, non è una tecnologia, con cui si possa fare soldi, e quindi, insomma, l'adesione, l'adozione, è un po', è un po' limitata da questo, però insomma, come ieri poi discutevamo, con dei colleghi, anche tecnologie, come activity pub, mastodon, e matrix, non è che sono proprio pensate, per fare soldi, eppure hanno, una certa diffusione, quindi vedremo, vedremo solid, come andrà, e ora, parto, con il secondo talk, che ho seguito, che invece è quello di John Romero, John Romero, anche lì, un più idolo assoluto, della mia infanzia, glielo ho poi anche detto, sono riuscito a braccarlo, e farmi un selfie, con il buon Romero, disponibilissimo, gentilissimo, e con lui veramente, ho passato l'infanzia, con Wolfenstein, Doom, e poi Quake, sono stati proprio, proprio l'infanzia, e lui ha fatto questo talk, che troverete sicuramente in giro, perché lo porta da diversi anni, ha scritto anche un libro, in cui parla un po' degli anni, che hanno portato alla creazione di Doom, in id Software, quindi è partito dalla formazione, di id Software, poi la creazione di Wolfenstein, e poi, appunto, lo sviluppo di Doom, con tutte le curiosità, gli aneddoti, dietro le quinte, ha fatto anche vedere, delle versioni alfa, delle versioni beta, delle build, proprio di Doom, lanciate su Dosbox, Dosbox, quindi, super figo, e poi, lui molto, un intrattenitore, no? Molto bravo a tenere il palco, e, a darci anche aneddoti, curiose, interessanti, talk che vi cura assolutamente di seguire, se vi interessano i videogiochi, e se, come me, insomma, siete cresciuti negli anni 90, con, con questa, con questa roba, quindi, grande John Romero, grande, grande talk. Passo subito, invece, al talk, che è molto più tecnico, rivolto al sviluppatore di JavaScript, che è quello di Eric Wendel, forse qualcuno di voi lo conosce, è un, è un influencer, praticamente, su, su YouTube, ma anche su Instagram e TikTok, lui fa dei, dei video, dove appunto, spiega e racconta certe tecnologie, con cognizioni di causa, eh, perché lui è un contributo di Node.js, ma è un GDI, un MVP, insomma, è un, è una persona che sa, quello di cui parla, e inoltre, lo riesce a spiegare molto bene, ha proprio questa capacità di, di, di raccontare, di spiegare concetti, anche complessi, ma in forma semplice, e, e di risultare anche simpatico nel frattempo, è veramente un, un fenomeno a tenere il palco, poi tra l'altro è una persona divertentissima, disponibilissima, proprio ci ho parlato, eh, varie volte, perché, non sono riuscito a bazzicare, diciamo, l'area degli speaker, e, è proprio una persona fantastica, quindi spero di incontrarla di nuovo in qualche, in qualche conf, ed avere l'occasione magari che si faccia un altro viaggetto, in Europa per fare altre conf, e, perché insomma, grande Eric, e, eh, vi racconto un po' di cosa ha parlato, che lui ha parlato dei design pattern in JavaScript, non ve li posso, ci sono dieci design pattern, sono, eh, dieci design pattern che secondo lui, devono essere, diciamo, nel bagaglio, no, dei, nella cassetta degli attrezzi di ogni sviluppatore di JavaScript, non ve li posso raccontare tutti, perché ci metteremo una vita, vi dico quelli più interessanti, il, la dependency injection, naturalmente il pattern della dependency injection, chi lavora con Angular, ce l'ha, eh, stampato nel cervello, per gli altri magari potrebbe essere un pochino più, eh, fumoso, però sappiate che la dependency injection, è quel pattern che vi consente di non, re-instanziare i servizi ogni volta che vi servono, ma, le classi ogni volta che vi servono, ma di prenderli da un, diciamo, uno store globale, eh, che ne conserva le istanze, quindi poi vi permettono di iniettarle appunto nei componenti, dove, dove andarli a riprendere senza doverli re-instanziare, componente per componente, quindi di avere anche uno stato interno, sicuramente non è una bella spiegazione questa, però insomma questa è la dependency injection, se non la conoscete, andatevela a conoscere, come tutti gli altri pattern che vi dirò adesso, come per esempio, il strategy, il pattern strategy, che è quello che vi consente di, eh, avere versioni diverse di un metodo, a seconda del contesto, quindi per esempio, con l'esempio anche che ha fatto Eric, se voi avete dei componenti che hanno della business logic, e poi volete renderizzarli su target diversi, per esempio, sul browser e su un terminale, sulla CLI, ecco che il metodo render, per esempio, potrebbe avere strategie diverse, una che renderizza su browser, e una che renderizza su terminale, quindi mantenendo la stessa business logic nel componente, ma andando a renderizzare su target diversi, con questo appunto pattern, che viene definito strategy, poi pattern builder, questo dovrebbe essere semplice per tutti, è quel pattern che vi astrae il costruttore di un oggetto, no? Quindi vi nasconde la logica del costruttore, vi dà in mano un altro oggetto, un'altra classe, che si chiama builder, ecco, e attraverso il builder, voi stanziate gli oggetti che vi servono, senza conoscere quali sono i dettagli implementativi, dei costruttore degli oggetto, e agganciandoci a questo, c'è anche il test data builder, che è un pattern molto interessante, che chiunque sviluppa librerie dovrebbe implementare, che in pratica, quando voi avete una classe o un oggetto, ne create una sua istanza apposta per i test, questo rende più facile testare, immaginate di avere una classe che ha molte proprietà, e quando voi dovete andare a testare qualcosa che riguarda quella classe, voi dovete istanziare un oggetto di quella classe, riempiendo magari tutte le proprietà, che potrebbe essere parecchio tedioso e verboso, quindi come fare? Con questo pattern, voi create un oggetto test data builder appunto, che vi istanzia, che vi dà un'istanza di questa classe, con già tutte le property prefillate, pre... sì, prefillate, con delle value, con dei valori di default, e quindi nel test, quando voi andate a richiamare questo builder, voi richiamate l'oggetto con property di default, potete magari andate a sovrascrivere solamente le property che vi interessa cambiare, per fare i test, e questo vi facilita enormemente la creazione dei test, poi il decorator, l'observer, l'isalto dovrebbero essere noti, e infine uno molto interessante, che è la sync iterator, che vi consiglio di approfondire, voi sapete cosa sono gli iterator, no? Function, asterisco, quindi avete degli iterator in JavaScript, bene, questo pattern potete implementarlo anche in modo async, mettendo la keyword async prima della function iterator, che è quindi quella che con yield, no? vi genera, vi dà degli output, vi dà in output sempre dei valori, ecco, con async potete usare await, all'interno del body dell'iterator, e quindi se avete per esempio delle promise, degli oggetti che fanno delle query remote, ecco, potete continuare a iterare su questo oggetto, continuare a emettere dei valori, anche utilizzando la keyword await, e in lettura, voi usate le keyword, voi usate proprio la sintassi, for await, poi nella parentesi let value of, con il vostro iterator async, e in questo modo avete un ciclo for, che cicla su valori asincroni, ogni volta che arriva un valore, e da questo oggetto asincrono, voi ve lo leggete, ve lo prendete, e questo pattern è molto interessante, se avete delle collezioni di oggetti remoti, per esempio, o da database, o da file system, insomma cose che devono aspettare, devono essere eseguite in modo asincrono, no? per, e non bloccare l'esecuzione, e questo è l'ultimo pattern, che volevo, che volevo citarvi, da questo meraviglioso talk, che vi consiglio di andare a seguire in giro, poi, Matt Butcher ha fatto, Matt Butcher è, se non lo conosceste, è un, è il founder di Fermion, è un, è uno dei co-creatori di Helm, e poi, è uno dei, dei creatori, di questo libricino, questo libricino che si chiama, The Illustrated Children's Guide to Kubernetes, ebbene, qui, in maniera molto creativa, lui ha creato una, loro hanno creato una serie di personaggi, e dei, delle analogie, per spiegare, Kubernetes, come se doveste spiegarlo, davvero, a un bambino, quindi in modo molto semplice, i container, gli orchestratori, ecco, ci sono questi concetti complessi, però semplificati, come se doveste raccontarli, a un bambino, benissimo, quindi, se andate sul sito della CNCF, cercate Fippi, appunto, trovate, Fippi and Friends, che sono tutti questi personaggi, e poi, scrollate fino a poter scaricare, o vedere online, o scaricare il PDF di questo libro, attenzione, sorpresa, il PDF di questo libro, c'è anche, in versione italiana, perché è stato tradotto, e ringrazierei, per questo, la nostra, Annalisa Gennaro, in Sparfabric, e Christian Moragine, che, avevano, a suo tempo, creato insieme, grazie alle traduzioni di analisa, e poi, l'editing di Christian, questo libro in italiano, quindi, lo potrete anche scaricare, in italiano ben tradotto, quindi, un ottimo regalo, che potete fare, a dei bambini, ma, non solo, e, questo talk, appunto, in questo talk, che si intitola, The Future of Cloud, is Web Assembly, di cui non vi racconterò niente, perché, ho presentato, un talk, dallo stesso titolo, al container day 2023, di Bologna, quindi, il 12 ottobre, se vorrete, venirmi a seguire, se vi interessa questo tema, a Bologna, appunto, c'è il container day, organizzato da Grusp, e, tra il talk, potete vedere, che dopo pranzo, ci sono io, questo mio bel faccione, dove parlerò di Web Assembly, The Next Frontier of Cloud Computing, sembra che ho, che abbia plagiato, ma in realtà, io, questa talk, l'ho submittato, mesi fa, non sapevo, di questo, del talk, di Matt Butcher, quindi, mi sono andato a seguire il talk, ho preso degli spunti, che poi magari, riproporrò, ma non vi racconto niente, perché se no, è spoiler, e se no, poi, sembra che abbia copiato, ma in pratica, Web Assembly, usato come runtime, eh, non vi dico niente, allora, vado avanti, Lorenzo, il grandissimo Lorenzo Pieri, ha fatto un talk meraviglioso, Lorenzo Pieri, è uno dei founder, è uno dei personaggi attivissimi, in Shoddinger Hat, no, questa community, open source, che organizza anche degli eventi, in Italia, l'ultimo, a cui ho partecipato, l'open source day, a Firenze, è meraviglioso, ecco, e Lorenzo, ha fatto un talk, parodia, come lui l'ha chiamato, cioè, il talk si intitola, The Year 3000, A Brief History of Web Development, cosa sta a significare? Che lui si immagina, come sarà, lo sviluppo web, nell'anno 3000, quindi fra 3000 anni, chiaramente impossibile, no, da immaginare, però, qual è il concetto? Che noi, anche fra 1000 anni, avremo gli stessi problemi, che abbiamo adesso, e cercheremo di risolverli, allo stesso modo, quindi, cambieranno le tecnologie, cambieranno dei pattern, ma i problemi saranno sempre gli stessi, e i modi con cui risolverli, spoiler, la comunicazione c'entra molto, saranno sempre gli stessi, è stato un talk, in cui lui ha inserito, molto umorismo, molta ironia, e il pubblico era, era veramente invisibilio, ha riso molto spesso, ha applaudito molto spesso, insomma, grande Lorenzo, ha fatto veramente, un gran talk, complimenti, se lo beccate in giro, seguitelo, perché è stradivertente. Ora, passo a Nurada, a Nurada Kumari, che avevo già conosciuto, al Code Motion dell'anno scorso, lei è una persona fantastica, e anche una bravissima programmatrice, ed è anche lei, una di quelle che è in grado, di spiegare bene, dei concetti, che possono essere, un po' complessi, o comunque, che riguardano, tante nozioni, tante cose, tanti dati, ecco, e lei, in questo talk, ha spiegato, come rendere, i buttons, ma, un po' tutti, gli elementi di interazione, i componenti di interazione, con una pagina web, ecco, come renderli accessibili, perché, parte dal presupposto, che innanzitutto, ci sono questi, graphics designer, questi UI designer, che naturalmente, vi rendono, o pretendono, che i bottoni, siano belli da vedere, con delle belle animazioni, delle belle grafiche, però, spesso, si dimentica, la parte di accessibilità, siccome, non tutti hanno, non tutti gli utenti, della vostra applicazione, possono vedere, i vostri, i vostri bottoni, i vostri elementi di interazione, molti devono utilizzare, uno screen reader, per poter leggere l'app, ecco, ci sono una serie, di strategie, e di tecnologie, messe a disposizione, dal, dal V3C, e dai browser, per rendere, questi, tutti questi elementi di interazione, in questi form, accessibili, e in questo talk, Anurada va proprio a elencarli, e a far vedere, degli snippet, degli esempi di codice, lei prende, dei bottoni, che non sono accessibili, prende degli elementi, che non sono accessibili, e va ad aggiungere, tutti quegli elementi, di accessibilità, che poi li renderanno, leggibili, da uno screen reader, e fa una demo, con il suo screen reader, per farci vedere, come funzionano, con delle cose anche, veramente fighe, come la gestione, della risposta, per esempio, la risposta, asincrona, di una posta al server, oppure, la lettura, di elementi all'interno, di una modal, di un modale, e quindi, vale la pena assolutamente, di seguirlo, anche proprio per, per formazione personale, perché tutti, i programmatori web, dovrebbero avere questi, concetti, no? Questi elementi, nel proprio bagaglio, vado verso, vado verso la fine, Brenda Romero, Brenda Romero, che è moglie, di John Romero, ma anche a sua volta, game designer, ha iniziato anche prima, mi pare, di John, e, perché lei era, la game designer, di Wizardry, per chi si ricorda, i GDR, i primi GDR degli anni, 80 e 90, e lei ha parlato, di come reagire, a un enorme stress, nel suo esempio, in particolare, c'è la reazione, la sopravvivenza, al peggior lancio, della propria carriera, lei naturalmente, come game designer, ha lanciato, diversi videogiochi, alcuni sono andati, molto male, e quindi, tra la risposta del pubblico, la risposta dei publisher, il malcontento generale, attorno a questi prodotti, ecco, che lei ha subito, notevole stress, che l'ha portata, a problemi veri, fisici, oltre che mentali, e quindi, parla di queste esperienze, di cosa succede, attorno a queste esperienze, e di tecniche, per reagire, per sopravvivere, a queste esperienze, naturalmente, non solo, gli sviluppatori, di videogiochi, possono ritrovarsi, in queste condizioni, anche per esempio, chi sviluppa, e rilascia, prodotti open source, si trova, in situazioni molto simili, avendo una community, attorno, che dialoga con noi, e reagisce con noi, ma anche chi semplicemente, lavora nella industry, lancia dei prodotti, o magari consegna, dei prodotti, da dei prodotti al cliente, ecco, questi magari non vanno bene, non hanno la reazione sperata, questo può creare, notevoli situazioni, di stress, di disagio, a cui, brand appunto, dà dei suggerimenti, per reagire, verso la fine del talk, dopo aver raccontato, un po' di tutte queste cose, fa un elenco, di 15 trucchi, di consigli, per reagire, a questo tipo di situazioni, ve le leggo un po', un po' in ordine, ve le leggo un po' velocemente, insomma, il primo è, credi che ce la farai, quindi, credi che supererai quel momento, poi, visualizza un futuro, senza stress, quindi, pensa a te stesso, in una situazione, nello stesso periodo, ma nel futuro, in cui, non avrai questo problema, quindi, pensa che, riuscirai appunto, a superarlo, lei addirittura, aveva, in un momento del genere, aveva prenotato una vacanza, a distanza di un anno, nello stesso periodo, quindi, già figurandosi, che in quel momento là, sicuramente, sarebbe stata in vacanza, in una bella situazione, e questo aiuta a superarlo, poi, proteggiti, filtra gli input che ricevi, non leggere i commenti, ecco questo per chi ha, una comunità attorno, parlane, parlane con famiglie, amici, siete in una situazione di stress, avete dei problemi attorno, parlatene, e questo è molto difficile, naturalmente, ma è utile, aiuta, parlatene con la famiglia, e gli amici, poi, prenditi cura di te, naturalmente, non sottovalutare, i segnali che dà il tuo corpo, delega, chiedi aiuto, importantissimo, quanto è difficile, trova qualcuno con cui lamentate, ecco questo, l'ho, l'ho capita, l'ho capita un po' meno, però sostanzialmente, non può essere tutta colba tua, tutto il carico, non può essere su di te, quindi, lamentetene con qualcuno, di questa situazione, magari qualcuno sopra di te, ecco, con la situazione che stai, che stai vivendo, poi celebra le vittorie, celebra anche le piccole vittorie, ogni giorno può essere, un qualcosa che è migliorato, rispetto al giorno precedente, ecco, celebrando queste vittorie, si può capire, che ci sta avvicinando all'obiettivo, quindi potrebbe essere importante, e tutte queste cose, falle in anticipo, quindi non aspettare gli ultimi momenti, non aspettare quando la situazione è già critica, falle in anticipo, poi, qui, un suggerimento bestiale, lascia tutto, molla, fermati, lascia il tuo lavoro anche, e questo dice, in una situazione estrema, di stress estremo, che sta mettendo a rischio la tua salute, ecco, nessun lavoro, nessun prodotto, nessun oggetto, nessun team, vale la tua salute, la tua vita, e quindi, quando sei in una situazione così estrema, lascia, pensa che tu sei più importante, della cosa che stai, del prodotto che stai consegnando, ecco, anche qua, quanto è difficile recepire questo suggerimento, però, è un suggerimento, molto, molto intelligente, no? poi, qui, per chi ha una community, parla con la tua community, effettua un triage degli input che ricevi, quindi dei commenti, delle issue che ricevi, fai un triage, non prendere tutto allo stesso livello, ma ordinali per gravità, magari, poi, istituisci un community council, e, infine, cura te stesso, quando hai dei problemi, insomma, vai, devi pensare che esistono delle cure, quindi curati, oltre a prenderti cura di te stesso, quando arrivi ad avere dei problemi, curati, riprenditi, ecco, recover, in inglese, e questo è un po' il succo di questo talk, che ho trovato molto ispirante, o inspiring, vabbè, penso che ispirante sia una parola, comunque, bello anche come è stato formulato, come è stato creato, lei è veramente brava a tenere il palco, anche lei, ecco, e a creare questo tipo, sono tutti bravi a tenere il palco, a questo livello, cioè, questi speaker, in conferenze di questo tipo, sono già navigati, ecco, e sono in grado di tenere molto bene, la platea, poi, sono gli ultimi tre, Stefan Baumgartner, probabilmente lo conoscerete, autore di libri, per esempio, molto famosi libri su TypeScript, ecco, ha fatto un talk su TypeScript, Stefan Baumgartner, ha fatto un talk che ha chiamato le bugie che ci diciamo come sviluppatori, e le bugie, poi ha iniziato a fare un po', a vedere di quanto noi, quanto poco possiamo fidarci, del type system di TypeScript, cioè ha fatto degli esempi di codice, in cui, secondo TypeScript, secondo il type check di TypeScript, tutto funziona correttamente, il codice sembra ok, ma quando poi lo lanciamo a runtime, ecco che succedono dei problemi, perché quello che abbiamo scritto non è corretto, anche se secondo TypeScript, secondo il check, era tutto ok, e ci sono varie situazioni di questo tipo, ne ha fatto vedere alcune, e ha fatto vedere anche come risolvere alcuni di questi problemi, cambiando il codice, aggiungendo i generics, o creando delle definizioni di tipi condizionali, cose che però hanno portato anche ad altri problemi, per esempio, la creazione di tipi condizionali, molto lunghe, che addirittura sono quasi impossibili da leggere, ha fatto la battuta che, queste definizioni di tipi sembrano scritti da quelli che hanno creato le regular expression, no, sono talmente complessi, ecco, ha fatto l'esempio di questo tipo, che sono comunque interessanti da vedere, e da conoscere, ma alla fine, qual è il, quello che ci portiamo a casa, da questo talk, l'obiettivo che lui ha, da questo talk, è farci sapere, farci capire, che noi, non è che non dobbiamo fidarci di TypeScript, non dobbiamo fidarci di noi stessi, cioè non dobbiamo raccontarci la bugia, che quello che è, sembra corretto dal punto di vista del type check, dello static checking, allora è tutto ok, e possiamo mandare su, possiamo mandare in produzione, dobbiamo essere consapevoli di quello che scriviamo, di quello che facciamo, di quello che architettiamo, perché in ultima istanza, noi come sviluppatori, non siamo pagati per scrivere codice, ecco, questo è così importante, no? Da portarsi a casa, noi non dobbiamo scrivere codice, chiunque può scrivere codice, chat GPT, copilot può scrivere codice, noi sviluppatori, non scriviamo codice, non dobbiamo scrivere codice, noi dobbiamo, prendere delle decisioni, noi dobbiamo, prendere decisioni, trade off, creare architetture, ecco, questo è il compito di un developer a qualunque livello, poi man mano che si sale, aumenta la complessità delle decisioni che prendiamo, e delle architetture che facciamo, però il nostro compito è questo, non è scrivere codice, è scrivere linee di codice banalmente, e questo è quello che bisogna portarsi a casa, da un talk di questo tipo. Vado verso la fine, Giorgio Boa, il grandissimo Giorgio Boa, ha fatto un talk molto apprezzato dalla platea, perché ero lì, e ho visto quanti c'erano anche in piedi attorno, a seguire il suo talk, lui ha parlato di trpc, trpc, un'implementazione di RPC in TypeScript, quindi una libreria che si può usare un TypeScript per far comunicare servizi con il protocollo RPC, che quindi è un protocollo che è basato su richiesta HTTP, ma che permette appunto a, per esempio, come l'esempio che ha fatto vedere Giorgio, a un frontend, a un backend, di comunicare, in una maniera che TypeScript stesso, riesce a riconoscere, ricondurre all'interno del codice del repo dell'applicazione, cioè si può chiamare direttamente un metodo del backend dal frontend, attraverso trpc, e TypeScript è in grado di conoscere, di capire, qual è il metodo chiamato, e quindi poi anche attraverso il debugger si può andare a navigare fino a capire qual è il metodo chiamato, con quali parametri è stato chiamato il metodo nel backend, e quindi Giorgio ha fatto proprio un esempio di come andare a debuggare una chiamata di un metodo via trpc dal frontend, un metodo che stava sul backend, quindi poi è andato a far vedere tutto il giro di come il metodo viene compilato, di che cosa espone al frontend, e di come è formata la chiamata HTTP che va poi effettivamente a eseguire questo metodo, e ha sostanzialmente contrapposto questo tipo di gestione della chiamata frontend-backend a quello che viene fatto con uno schema, con delle API tradizionali come REST o GraphQL, tutti i vantaggi che TRPC può portare, quindi studiatevi TRPC se vi interessa questo argomento, e Giorgio sicuramente lo porterà in altre conf, quindi seguite anche Giorgio per capire un po' dove poterlo andare a ribeccare, comunque complimenti Giorgio e grazie anche per, tu sai, è stato tutto molto molto interessante, chiudo con Dan Abramov, che sicuramente conoscerete, uno dei contributor fondamentali di React, uno degli autori di Redux e di Create React App, ecco, Dan Abramov, anche autore, eccetera, insomma, un personaggio che sa raccontare, sa intrattenere anche, infatti era molto simpatico il suo talk, anche il modo con cui si è presentato il pubblico, il modo con cui ha interagito con il pubblico, ecco, molto molto simpatico, questo talk, diciamo che non è proprio un talk formativo, è più un talk di intrattenimento, anche se qualche spunto formativo lo dà, ecco, l'ha chiamato React from another dimension, o dimension, vabbè, questo talk tra l'altro l'ha già fatto in altre conf, anche un pochino più lungo, quindi lo trovate sicuramente in giro, e qui cosa ha fatto? Lui si è immaginato, se agli inizi degli anni 2000, insomma, quando è arrivato JavaScript, se JavaScript non fosse stato un linguaggio browser, ma un linguaggio server, e quindi se avessimo creato un framework come React, ma sul server e non sul client, quindi con il rendering delle web application sul server, e poi passate come statiche al browser. Vi ricorda PHP questa roba? Sì, fondamentalmente ha reinterpretato, ha reimplementato alcuni dei concetti delle static page, delle pagine di PHP, delle dynamic pages di PHP, con React, quindi ha scritto React, ha scritto JavaScript su server, usando delle strategie di React, quindi creando dei componenti, spezzando la UI in componenti, per esempio, ecco, poi utilizzando anche delle librerie, all'interno dell'ecosistema React, però renderizzando tutto sul server, e poi mandando HTML, CSS, sul browser, e infatti era talmente banale, ecco, il risultato di questa compilazione, che l'ha fatto girare, su una macchina virtuale, con Windows XP, e Internet Explorer, quindi proprio creando un sito come se ci trovassimo nei primi anni 2000. È stato simpatico, ma ha fatto anche notare alcune cose, alcune caratteristiche del framework di React, e per esempio, ha implementato i client component, oggi noi stiamo parlando di server components, è una delle cose su cui React spinge di più, i server components, ecco, in un mondo in cui React è server, noi creiamo i client components, cioè dei pezzi di codice, che invece di essere eseguiti sul server, sono eseguiti sul client, dopo che la pagina è già stata renderizzata. E li ha implementati così, tra l'altro con una rapidità di scrittura, senza typo, invidiabile, abbastanza invidiabile. Insomma, è un talk simpatico, ma è anche utile, un po' per, in pratica, per capire un po' alcuni meccanismi, alcuni retroscena, di come si arriva a pensare, alcune soluzioni a problemi nell'ecosistema React. E quindi appunto questo era l'ultimo talk di cui volevo parlare oggi. Oh, ce l'ho fatta, è stato un lungo viaggio, non so quanto durerà questo video, ma credo parecchio, credo che siamo intorno, sopra la mezz'ora, insomma. Però spero che vi sia piaciuto, chi è rimasto fin qua ad ascoltarmi, in podcast, o chi mi sta guardando in video, insomma, su YouTube, spero che sia piaciuto, perché penso che sia utile, sapere un po' che cosa si fa in conf di questo tipo, poi magari ci andrete anche voi. Fatemi sapere se video di questo tipo vi possono piacere, magari li posso fare anche per altre conf a cui parteciperò, o per altri argomenti, per altri temi. Non so se possono funzionare anche in podcast, però insomma, ho bisogno di che me lo facciate sapere, quindi poi vi chiederò dei feedback. Quindi posso considerare conclusa la mia avventura a VR Developers, potrò togliermi finalmente queste manette, che è il braccialettino dell'attendiz di VR Developers, che praticamente è facilissimo da mettere, impossibile da togliere, questo è un vendor lock-in incredibile, me lo potrò finalmente tagliare e togliere. Ringrazio a tutti quelli che mi hanno seguito, tutti voi, ci sentiremo forse nei prossimi giorni, non lo so, poi faremo sicuramente ad agosto una mega pausa, è anche possibile che non ci si risenta più fino alla fine di agosto, ve lo dico, o anche addirittura fino a settembre, non lo so, non lo so, vediamo come va, di sicuro le tech news rallenteranno in questo mese, quindi non avrò proprio la pressione di andare a parlare, di andare a fare buongiornissimi, comunque grazie mille per aver seguito diciamo tutta questa prima stagione, chiamiamola così, del buongiorno da Edo, che ho un po' improvvisato, un po' capito come fare giorno per giorno, spero sia piaciuta, insomma qualche riscontro positivo l'ho avuto, e vi ringrazio tantissimo, e noi appunto chiudiamo qua, e ci risentiamo, ci rivediamo in un futuro magari migliore. Buone vacanze a tutti per chi le farà, studiate, leggete dei bei libri, ascoltate dei bei podcast, fate dei bei contributi ai progetti open source, ma soprattutto riposatevi, riposiamoci perché a settembre si deve ripartire, eh, alla grandissima. Buona estate, buon agosto, ciao.